Da Trani a Cerignola con in macchina quattro panetti di hashish pronti per essere spacciati. E' finita decisamente male la trasferta in terra foggiana per un cittadino algerino di 48 anni, Karim Saidi, arrestato dagli agenti della squadra mobile di Foggia e dai colleghi del commissariato di Cerignola. Le manette sono scattate nel corso di uno dei diversi servizi di controllo del territorio eseguiti dalla polizia, intensificati su ordine del questore del capologo Dauno in occasione delle festività pasquali. All'altezza di via Manfredonia, zona centrale di Cerignola, i poliziotti hanno notato strani movimenti da parte del conducente di una Y10. Insospettiti hanno intimato l'alt all'uomo alla guida, uno straniero residente a Trani e già noto alle forze dell'ordine. Dopo il controllo dei documenti, gli agenti hanno proceduto ad una curata perquisizione del veicolo ed i risultati non si sono fatti attendere. Sotto il sedile, nel lato guida, era stata nascosta infatti una busta di cellofan contenente complessivamente 400 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti. A questo punto, per il cittadino algerino, è scattato inevitabile l'arresto. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito su disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere di Foggia e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.